Ciao da Davide Adriani, benvenuta o benvenuto in questo nuovo video. In questo video andremo a vedere come ho cercato e come puoi fare anche tu ad emulare una fotografia scatata a pellicola in Lightroom. Questo perché? Perché ad oggi scattare a pellicola, soprattutto a pellicole e a colori, è diventato costosissimo. I rullini non sono solo super costosi, questo è il mio rullino preferito, un Kodak Portra 400, costano più o meno 18-19 euro a rullino, quindi 36 scatti, e in più poi i rullini vanno sviluppati e lo sviluppo a rullino, compresa scansione, può arrivare a costare tranquillamente a 25 euro. Quindi i prezzi sono assolutamente proibitivi e come se non bastasse ormai trovare queste pellicole in commercio è diventato complicatissimo perché la fotografia a pellicola è un po' tornata in bocca in questi ultimi anni e la Kodak che ha rimesso in piedi le sue filiere produttive non riesce a stare al passo la richiesta, quindi l'offerta è meno della richiesta, quindi le pellicole sono assolutamente introvabili se vi fate un giro online sui principali e-commerce di fotografia analogica vedrete che quasi su tutti i siti è impossibile comprare questi rullini, se è possibile i prezzi sono folli, quindi cosa facciamo insieme? Ci andiamo a cercare di emulare questa pellicola in Lightroom. Per farlo ho pensato una cosa simpatica, non so se hai già visto questo video che ti lascio linkato qui sopra, qualche mese fa sono stato in Thailandia, ho scattato delle fotografie principalmente di nudo artistico, ma dato che qui su YouTube non posso farti vedere il nudo perché altrimenti vengo bandito, ho selezionato alcune fotografie che ho scattato sia in analogico con questa pellicola Kodak Porta 400, sia in digitale con la mia Sony. Li andiamo a confrontare, andiamo a vedere le differenze tra analogico e digitale e appunto vedremo come è possibile emulare, per quanto possibile vedremo, l'effetto analogico col digitale. Quindi vieni con me all'interno del computer e vediamo un po'. Allora, eccoci qua all'interno del computer, qui vedi due fotografie praticamente identiche, ovviamente vabbè c'è un po' di differenza. La prima fotografia, questa qui, è stata scattata in analogico. La macchina con cui ho scattato questa fotografia, se ti interessa, è una Nikon FM2 con un obiettivo Nikon f1.4. Questa fotografia è stata scattata proprio a 1.4, quindi un diaframma apertissimo. Questa è praticamente la stessa fotografia, posa molto simile, scattata però in digitale. Con che macchina fotografica? Con una Sony Alpha 7 R4 e come obiettivo ho usato un 35 mm. Qui possiamo vedere addirittura i dati di scatto, 35 mm, ha scattata ad 1.8, che è la massima apertura del mio 35 mm, un centosessantesimo di secondo, ISO 400. Quindi tutte e due sono state scattate praticamente a 400 ISO, perché la Kodak Portra con cui ho scattato questa foto, appunto, è una Kodak Portra 400. Ora, come vedi, le differenze sono, secondo me, abissali. Nel senso che la fotografia praticamente è la stessa, ma quella rullino è troppo più bella. La pasta d'immagine, il colore, la tonalità, il calore della pelle della ragazza, quindi l'incarnato, secondo me, è nettamente superiore. Andiamo a vedere se è possibile emulare questo colore in Photoshop, come farlo. Ti faccio vedere anche, così puoi farlo anche tu. E poi ci facciamo, insomma, un'idea se ha senso farlo o ci tocca sborzare i soldi di una Kodak Portra 400. Allora, io per farlo, la prima cosa che noto, intanto, questa fotografia è un po' più luminosa, quindi mi andrei ad aumentare l'esposizione nella fotografia digitale. Quello che noto è che questa fotografia è più contrastata, quindi quella analogica è più contrastata, lo vedo dall'ombra sul collo. Guarda quanto è più scura quest'ombra qui rispetto a quella del digitale. Quindi vado a aumentare il contrasto sulla mia fotografia digitale, fino ad avere più o meno quest'ombra marcata allo stesso modo di quella analogica. Come vedi, i colori già si stanno accordando di più, ma ti faccio notare una cosa. Una cosa che a me fa impazzire della Kodak Portra è sia l'incarnato molto arancione, che appunto dona questa pellicola, e sia le ombre che tendono un pochino all'azzurro, al blu. Mentre nel digitale, sì, abbiamo un po' questa tendenza, ma non marcata come l'analogico. Per farlo io vado a usare le curve di viraggio. Cosa abbiamo qui nella pellicola? Abbiamo le ombre con più blu rispetto al digitale. Quindi io mi vado ad aprire il canale del blu. So che le ombre sono nell'istogramma verso sinistra. Se non capisci quello che ti sto dicendo, ti invito a seguire le mie lezioni gratuite, quindi non devi spendere un euro del mio corso di fotografia, le trovi linkate qui sotto, oppure vai sul sito www.diventaunfotografo.com nelle lezioni gratuite e spiego tutto quello che ti sto dicendo ora, passo passo. Ora sto, diciamo, andando veloce, supponendo che tu già sappia queste informazioni. Quindi nelle ombre mi vado ad aumentare leggermente i blu e nei mezzi toni li vado a togliere. E come vedi, rispetto a prima, i blu nelle ombre sono nettamente aumentati. Posso addirittura estremizzare ancora questi blu e io farei in questo modo, se no, i blu sono molto aumentati nelle ombre. Voglio anche un po' aumentare l'arancione, i gialli più che l'arancione, nei mezzi toni, sulla pelle della ragazza. Quindi io so che il giallo è il colore opposto al blu, quindi i mezzi toni sappiamo che nell'istogramma sono a metà, quindi abbasso un pochino la curva dei blu in corrispondenza dei mezzi toni e come vedi l'incarnato della modella diventa immediatamente più giallo. Ora nelle luci mi riporto quella curva sulla sua diagonale e come vedi abbiamo più o meno ottenuto la stessa tonalità. Vado a lavorare ora con la curva RGB, che è la curva della luminosità, e voglio aumentare leggermente la luminosità nelle zone luminose dell'immagine. Come faccio? Seleziono questo strumentino qui, mi posiziono su una zona luminosa, per esempio qui sullo zigomo della ragazza, che è molto luminoso, alzo leggermente la curva, nelle ombre mi vado a riabbassare la curva in modo da mantenere il contrasto, e come vedi ho una tonalità ora tra la fotografia analogica e quella digitale molto simile. Una differenza che noto è nella grana. Come vedi la fotografia analogica ha molta più grana della digitale. Posso ottenere la stessa grana andando nella schedina effetti di Lightroom, aumento il fattore della granulosità e mi va ad aumentare la grana dell'immagine. Guarda, se zoomo, vedi, più aumento, più aumenta la grana dell'immagine, e ottengo più o meno la stessa immagine. Ora, sinceramente, dopo aver fatto questa modifica, questa settimana appena ho ricevuto i file scannerizzati dei miei rullini a colori scattati in Thailandia, ho provato su più foto, perché ho scattato più foto sia in analogico che in digitale, a fare queste modifiche, questo confronto, e, secondo me, non c'è proprio battaglia anche a parità di toni, perché ormai abbiamo raggiunto un tono, un contrasto, una tonalità di foto praticamente identica, la fotografia analogica è molto più bella. Ha un carattere in più, è come se mostrasse di più l'anima della persona ritratta nella fotografia. Ora, ho anche molte altre fotografie scattate in analogico a questa modella, magari te ne faccio vedere ora qualcuna mettendo delle censure, perché la maggior parte sono fotografie di nudo. Ti ricordo anche che queste fotografie analogiche non hanno subito alcun processo di post-produzione, perché il bello della fotografia analogica è che il carattere, i colori, la grana dell'immagine sono già racchiuse appunto nel rullino, quindi abbiamo tra virgolette meno lavoro, anche se poi questo è un po' una mezza verità, perché comunque si dovrebbero processare anche queste fotografie. Però già quello che otteniamo con lo sviluppo e la scansione rullino, secondo me, rispetto al digitale, è tutto un altro livello. Vieni nel computer, ti faccio vedere altre foto scattate a rullino. Questa è un'altra, questa anche l'ho scattata anche in digitale, ma il tono che otteniamo già fuori dalla camera è qualcosa di eccezionale rispetto a quello che si riesce a ottenere, la pasta che si riesce a ottenere in Lightroom. Ecco un'altra molto simile alla precedente. A me non so perché, non lo so spiegare, se qualcuno di voi sa farlo meglio di me, a me guardare queste fotografie scattate in analogico mi fa quasi pensare di conoscere l'animo della persona ritratta. È un qualcosa che non so bene spiegare e che in digitale non credo sia facile ottenere. Queste, per esempio, sono state scattate con un altro rullino, un Kodak Hectar 100 ISO, quindi abbiamo meno grana. Kodak promuove questi rullini come i rullini con la grana più fine al mondo, World Finest Grain. E guarda le tonalità di colori, queste sono sempre scattate in Thailandia. Intanto la gamma dinamica è assurda. Qui, con una macchina fotografica digitale, avremo perso completamente il cielo, avremo ottenuto un cielo completamente bianco, mentre, se no, di qui abbiamo mantenuto il dettaglio nel cielo e abbiamo tutti i dettagli anche nelle ombre. Poi qui, magari con un po' di post-produzione, possiamo ridurre la luminosità nel cielo e ottenere una fotografia pazzesca. Quindi la gamma dinamica dei rullini è molto, molto, molto maggiore di quella digitale. Ecco altre fotografie sempre scattate con la Hectar 100. Guarda le tonalità di colore. Questo è un villaggio dove vivono le donne che si allungano il collo con degli anelli stile donne africane. Guarda i colori della vegetazione, i colori del terreno, la gamma dinamica, cioè le informazioni che il rullino tiene sia nelle ombre che nelle luci. Ti ricordo, tutte queste foto non sono post-prodotte, eh. Questa è sfocata, questa è sempre scattata. Sono tutte fotografie scattate in questo villaggio di, vedi, queste donne che si allungano il collo e i colori sono assolutamente pazzeschi. Ottenere questi colori in digitale non è cosa da poco. Questo per dire cosa, che secondo me, se non l'avete mai fatto, provate a scattare con rullino. Ci sono rullini un po' più economici di questi Portra 400 o degli Hectar 100. Purtroppo sono molto difficili da trovare e sono i Kodak Ultramax e i Kodak Gold. Provate a trovarli. Se li trovate, comprateli. Mi raccomando, sono beni rari ad oggi. Se avete una qualsiasi macchina fotografica analogica del papà, del nonno, dello zio, basta inserire i rullini e se la macchina fotografica è totalmente meccanica funzionerà. Oppure ti lascio qui sopra un link a un video che ho citato poco tempo fa, dove ti guido alla scelta della prima macchina fotografica analogica. È un'esperienza da fare, assolutamente. A me piace più scattare rullini a colori rispetto a quelli in bianco e nero, anche se il bianco e nero è più facile da sviluppare a casa. Però insomma, provate perché i risultati sono assolutamente straordinari. Più avanti magari farò un altro video in cui guiderò nella realizzazione di alcuni preset per appunto simulare la pellicola con il digitale. Se ti interessa fammelo sapere qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!